Il mondo sta accelerando, stiamo correndo velocissimamente e la discontinuità è sempre più forte. L'indice che misura l'incertezza globale, quindi appunto la discontinuità, negli ultimi 10 anni è cresciuto del 340%. Ci troviamo di fronte a due onde lunghe, di lungo periodo, da oltre 30 anni. L'accelerazione tecnologica e il cambiamento demografico, all'interno della quale ci sono 8 nuove onde di cambiamento che guardano la società, l'economia, il modo di lavorare, il modo di interagire. Tutto questo sta disegnando uno scenario nuovo e lo stiamo vivendo in queste settimane, in questi giorni, in questi mesi, in questi anni.